La convivenza delle diverse etnie nel mondo dell'infanzia. E' stato questo il tema del convegno Bambini del mondo nelle scuole italiane, difficoltà e conquiste, la realtà piemontese che si è svolto al Salone della Pace del Serving di Torino organizzato dalla Consulta Femminile Regionale con i suoi gruppi di studio Identità e Culture e Famiglia ai Minori in collaborazione con il Comitato Associazioni Femminili di Torino. Qual è il significato di questa iniziativa del convegno di oggi? La Consulta Femminile, in particolare attraverso l'impegno dei suoi gruppi Identità e Culture Famiglie e Minori, ha voluto interrogarsi e porre questa interrogazione e speriamo il risultato che ne viene, sul livello di integrazione dei bambini, delle famiglie immigrate, probabilmente già da un po' di tempo. Adesso che si affronta una nuova emergenza, vogliamo verificare invece come avviene l'integrazione dei bambini che già risiedono, in particolare nella nostra città e nella nostra regione.